Sì? Principe, verrebbe con noi, per favore? Prenda pure i suoi effetti personali. Immediatamente, abbiamo fretta. Bene, possiamo continuare. È stato un onore averla nella nostra scuola. Partiamo tra un quarto d'ora. Ma, Yanolov, che succede? Non capisco. La regina sarebbe venuta a prenderla di persona se sua altezza non fosse a bordo di un aereo. Ma perché devo andare via? Lei non può permettersi di minacciare la corona al telefono e pensare che il suo gesto non comporti nessuna conseguenza. Andiamo a fare i bagagli. E quando tornerò?